Ben trovati gentili telespettatori sempre qui in diretta mattina live come vi avevamo poc'anzi già anticipato insieme a Roberta Giuffre e Matteo Volpe passeremo questi minuti a parlare di un argomento importantissimo in Italia non si fanno più figli questo è un dato adesso ne parleremo ovviamente con un esperto che fra pochissimo vi introdurrò come sempre fatelo potete parlare con noi attraverso il numero whatsapp 391 117 68 72 oppure qui telefonicamente 091 333 660 ma chi abbiamo con noi stamattina Roberta il dottore Emilio Italiano buongiorno dottore buongiorno buongiorno a tutti voi e ai telespettatori siamo qui per parlare appunto della denatalità in Italia e lei insomma ci può illustrare alcune domande che abbiamo da farle per i nostri telespettatori sì vi ringrazio il tema della denatalità è stato attenzionato già da diversi anni ricordiamo la campagna della ministra Lorenzin a suo tempo e che sollevava un problema che stava diventando sempre sempre più importante in Italia ma in realtà anche in Europa i numeri non sono assolutamente buoni in Italia sono ancora peggiori la campagna mirava a sensibilizzare le coppie a cercare di fare più figli bello a dirsi meno a realizzarsi se ricordiamo poi la campagna è stata molto sbeffeggiata sui social modificando quelli che erano i target del marketing che il ministero della salute aveva scelto le problematiche sono note cioè ci si sposa sempre più tardi la stabilità economica di una coppia giovane è sempre più complessa ormai le famiglie con monoreddito sono veramente una realtà dei nostri direi quasi bisnonni più che dei nonni si fanno figli hanno dei costi dei costi importanti ora l'attenzione ripeto mirava a sensibilizzare la necessità di far figli ma si scontrava e con delle politiche sociali economiche complesse che negli anni comunque per carità sono state attenzionate ma non come negli altri paesi europei certo ma dal punto di vista diciamo anche medico al di là del fatto che è una scelta fare dei figli ed è come abbiamo detto anche complicato dal punto di vista economico però ok mi sono sposato ho deciso di mettere su famiglia ma dal punto di vista medico qual è la difficoltà cioè qual è la causa di denatalità che in questo momento ci sta affliggendo e le cause di denatalità sono tante da andrologo attenziono maggiormente le cause di modalità in cui il maschio non viene visitato in una coppia infertile ricordiamo che la definizione di coppia infertile è quella coppia che non riesce ad avere figli in maniera spontanea dopo un anno di rapporti non protetti a quel punto la coppia dovrebbe cominciare un percorso in contemporanea la donna dal ginecologo il maschio dall'andrologo questo nella realtà non avviene malgrado tutte le campagne di sensibilizzazione che gli andrologi in italia abbiamo abbiamo fatto le cose di infertilità maschile sono realmente tante ormai rappresentano il 50 per cento delle cause di infertilità di coppia ma ancora una volta nella realtà clinica la donna fa di tutto di più e il maschio viene visto in seconda battuta e magari semplicemente soltanto con un esame seminologico lo spermiogramma è l'esame principe per il maschio ovviamente dopo la visita per capire quelle che possono essere le problematiche queste problematiche possono essere identificabili prima di pensare di ricorrere a tecniche di fecondazione assistita e molte sono risolvibili appunto senza dover andare a questo tipo di tecniche quindi l'invito a chi ci ascolta è quello che ecco il maschio va visitato va deve andare dall'andrologo deve fare un percorso assolutamente corretto ma dottore quali sono le misure adottate dal governo per incentivare la natalità che oltretutto insomma due giorni fa è uscita questa novità da parte del governo cosa ne pensa lei beh sempre qualche cosa che si fa è chiaro che lo stato italiano leggiamo diciamo non ha grandi disponibilità però cerca di operare diciamo delle politiche per incentivare la natalità e quindi il famoso bonus bebè il famoso bonus asilo nido tutte quelle che sono le dretazioni fiscali per le donne lavoratrici sono stati sono capitoli di spesa che sono stati ulteriormente rimpinguati e riproposti allungandoli nel tempo per dare una mano alle coppie che vogliono far figli e che vogliono pensare di avere una stabilità per poterli crescere in serenità e questo speriamo dia i frutti nel nel prossimo futuro io vorrei anche capire una situazione cioè c'è una cosa che si dice spesso no forse è rimasto nella nostra mente da da tempo e vorrei che lei appunto ne parlasse cioè questo problema maschile che spesso si dice non riesco ad avere figli me lo tengo per me non lo dico e magari vado ad incidere invece sulla mia compagna cercando di capire se lei ha un problema magari il problema è quello del maschio però mentalmente c'è questo blocco se non riesce ad avere figli non sei un vero uomo se mi controllo è possibile che qualcosa non vada non lo voglio sapere cioè psicologicamente c'è ancora questo stigma dottore purtroppo c'è ancora toccato un punto veramente fondamentale e la visita andrologica è una visita assolutamente normale si deve parlare di tutto questo come si parla di un raffreddore di una bronchite di qualsiasi altra e patologia per fortuna le campagne di sensibilizzazione che come società italiana di andrologia abbiamo fatto in ambito della prevenzione perché ricordiamo che la problematica dell'infertilità maschile è qualche cosa che non si deve trattare solo nel momento in cui una coppia non ha figli ma dobbiamo andare assolutamente a monte nel campo della prevenzione ormai da devo dire per fortuna da anni vedo genitori che mi portano i figli a 14 15 16 anni cioè ecco diciamo si dovrebbe scusi se l'interrompo iniziare già dall'adolescenza assolutamente sì cioè la donna almenarca è abituata ad andare dal ginecologo ai consultori come posto dove può parlare e delle 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 dubbi delle problematiche il maschio puberale non sa dove andare faccio degli incontri nelle scuole vengono fuori delle cose assolutamente che dovrebbero essere attenzionate quindi sì ripeto le campagne di sensibilizzazione adesso fanno sì che i genitori mi portino portino negli ambulatori di andrologia i loro i loro figli 14 15 16 anni non c'è più la visita di leva ormai da diversi anni lo ricordiamo perché anche quello anche se minimale era uno screening del del maschio quindi la palpazione dei genitali dello scroto in quell'ambito permetteva di evidenziare a 17 18 anni per esempio la problematica del varicocele che non è altro che varici della vena spermatica qualcosa che si verifica nel testicolo di sinistra individuata per tempo e risolta determina un miglioramento netto della qualità della fertilità del maschio ma ci sono invece delle età precise in cui c'è lei che ha un sacco di pazienti ha potuto comunque prendere dei numeri a capire a che età più o meno sarebbe comunque cosa giusta e buona andare a fare una visita dall'andrologo per capire se tutto va bene al di là anche della natalità insomma della voglia di fare figli sì sì e per la visita ecco andrologica andrebbe fatta a 14 anni e poi ogni due anni per esempio potrebbe essere già un periodo di normale normale visita ai 14 anni il giovane adolescente anche tanti dubbi tanti dubbi non soltanto ovviamente non ci pensa nemmeno alla fertilità ma tanti dubbi anche che può esporre al all'andrologo e parlarne piuttosto che andare a cercare delle soluzioni in internet spesso furvianti mi capita di fare degli incontri nelle scuole anche per parlare della intimità sessuale piuttosto che di educazione sessuale è qualche cosa che dobbiamo cercare di trasmettere ai giovani questo della intimità sessuale siamo bombardati da da tutto è quello che che vediamo anche nelle recenti cronache è un po un campanello d'allarme importante ripeto ecco diciamo la l'educazione all'intimità e al rispetto deve fare parte integrante anche di un percorso del maschio dottore ma tra le cause dell'infertilità maschile appunto potrebbe esserci un problema genetico e come si può fare appunto per scoprirlo anziché magari accanirsi per fare delle terapie che insomma al giorno d'oggi poi le coppie vengono schiacciate da questo problema chiamiamolo così e beh sì entrando nel nel campo della genetica la fibrosi cistica per esempio è una delle cause di infertilità maschile e poco risolvibile ma ci sono anche per esempio la sindrome di klinefelter ma altre patologie di cui non è il caso di elencare l'importante è scoprirle per tempo quindi un'anomalia genetica e come la klinefelter e se identificata a 11 anni 12 anni permette di effettuare una terapia sostitutiva che può riportare il maschio in una condizione di fertilità ma se trascurata non riconosciuta qua sicuramente il danno evidente ora alcune cause estreme per esempio l'assenza di spermatozoi che è la causa peggiore per per una coppia infertile anche lì per fortuna abbiamo delle metodiche che permettono anche di recuperare degli spermatozoi direttamente dal testicolo con un minimo intervento chirurgico gli spermatozoi recuperati possono essere utilizzati per tecniche di fecondazione in vitro quindi diamo speranze anche alle coppie in cui il maschio ha una diagnosi di azoospermia cioè di assenza completa di spermatozoi in un in un liquido emesso quindi l'è successo ce l'abbiamo un esempio ecco di qualcuno che è venuto al suo studio ha detto dottore io non riesco ad avere figli magari aveva un'età giusta in cui averlo oppure era troppo grande o per avere altri insomma problemi lei lo ha aiutato ha capito qual era il problema e magari è riuscito a questo punto ad avere un figlio io ricordo con con estremo piacere una targa che mi è stata regalata da una coppia che dopo quattro anni di percorso in tutta italia di tecniche di fecondazione assistita di spese incredibili comunicavano che il maschio non era mai stato visitato è stata nella visita è venuta fuori una causa facilmente identificabile e per fortuna risolvibile la coppia ha avuto una gravidanza spontanea dopo tre mesi diciamo dalla risoluzione del problema mi hanno regalato una targa bellissima di ringraziamento felici di aver dato appunto a loro questa questa paternità questa maternità ripeto l'andrologo non è un mago è semplicemente un medico che deve curare trattare il maschio nelle coppie che potenzialmente hanno difficoltà ad avere figli e la visita rappresenta la tappa essenziale di quella che deve essere lo studio del del maschio dottore quanto incide e ovviamente l'aspetto psicologico in un uomo spesso si collega l'infertilità quando viene fatta questa diagnosi alla potenza sessuale è ovviamente un errore è un maschio infertile non è un maschio con un disturbo della sua mascolinità della sua virilità della sua erezione sono due cose totalmente scisse bene chiarirlo è chiaro che ci sono dei sensi di colpa in una coppia in cui si riconosce una causa di infertilità maschile ma dobbiamo assolutamente parlare con la coppia dare anche un supporto psicologico l'andrologo probabilmente qual lavora tanto anche come supporto psicologico a ribadire il fatto che sono due cose totalmente scisse a riposizionare la coppia in condizioni di trovare delle soluzioni alcune soluzioni possono essere estreme quando come abbiamo detto sì le possibilità di recupero esistono ma alcune volte dobbiamo allargare le braccia e dover dire alla coppia che deve ricorrere a seme di donatore le banche del seme esistono per questo così come esistono le banche degli ovociti nei casi in cui è la donna ad avere una problematica in cui la qualità degli ovociti non è più idonea per fecondare l'importante è dare delle soluzioni le soluzioni esistono la denatalità la si può sconfiggere con queste modalità ritornando al governo i lea i livelli essenziali di assistenza prevedono per le tecniche di fecondazione assistita adesso un supporto che c'è già da tre anni almeno in teoria ma è un capitolo di spese mai riempito in sicilia e al sud in generale da gennaio 2024 questo capitolo di spesa sarà realmente effettivo c'è stato ed è in corso un tavolo tecnico alla alla regione e per cui finalmente diamo anche qui una speranza per le coppie con difficoltà economiche a poter accedere a queste tecniche anche con l'aiuto di quelli che sono appunto i livelli essenziali di assistenza infatti dicevamo poco fa che l'italia è uno dei paesi con il tasso di natalità più basso al mondo dottore magari vogliamo dare dei numeri qui ai nostri telespettatori beh i numeri sono quelli pubblicati dal dall'istat il ministero con un ritardo di due anni presenta queste queste statistiche e l'ultima relazione che è quella del 2021 parla di una natalità di 1,25 per ogni donna e dobbiamo anche dire che stratificando questi dati sono dobbiamo forse ringraziare gli extracomunitari che arrivano in italia e che vengono assolutamente inseriti nel nostro territorio che hanno un tasso di natalità più alto e rendono questa media italiana accettabile ma ben lontana da quelle che sono le medie europee quindi un problema assolutamente importante in italia benissimo allora noi sappiamo che il dottore emilio italiano ci supporta ci supporta anche in altre situazioni in altri programmi televisivi tra cui wellness medicina e salute è stato ospite questa settimana e probabilmente ritornerà proprio per aiutare quindi lei aveva un messaggio noi l'abbiamo mandato lunedì mattina però è qui con noi quindi io lo farei fare direttamente dal vivo insomma ci dica quale cosa può fare in questo momento lei per noi e poi appunto dare un messaggio a tutti ma io vi ringrazio per lo spazio che mi date perché a me piace comunicare malgrado i capelli bianchi finché c'è entusiasmo per un medico di poter comunicare qualche cosa che è importante dare lei comunica anche nelle scuole dottore abbiamo saputo comunico anche nelle scuole sì comunico anche nelle scuole quando i presidi anche qua adesso si chiamano in altra maniera mi danno fiducia permettono di trovare degli spazi e qualche cosa ripeto che come società scientifica portiamo portiamo avanti nel momento in cui il governo italiano non ha strutturato di fatto una un'educazione sessuale come negli altri stati europei e allora è lasciata così al singolo volenteroso di poter fare qualcosa del genere quindi sì dico anche qua comunicare accettare quelle che possono essere le domande che arrivano via whatsapp con le telefonate potere rispondere una maniera per risolvere i dubbi quando vado nelle scuole le domande più dei maschi a questo punto che delle femmine sono numerosissime hanno tanti dubbi ed è giusto che ne parlino perché ripeto il problema vero è che non riescono a trovare una figura non è il genitore non è l'amico non può essere internet che è falsato da da tantissime cose ma sono delle cose che spero di poter discutere con con voi e con i telespettatori e in tutti gli ambiti in cui è possibile farlo allora l'appuntamento è quello di wellness medicina e salute con il dottore emilio italiano poi ovviamente quando vorrà sarà nostro ospite per continuare a parlare di questi argomenti che sono assolutamente interessanti i messaggi sono positivi si possono avere figli si devono fare i controlli l'uomo deve farlo tanto quanto la donna forse ancora di più perché c'è questo stigma quindi superiamolo andiamo tutti quanti dal medico giusto senza andare su internet senza andarci insomma ad impelagare in cose che non conosciamo quindi è meglio far fare ognuno il proprio mestiere perché può soltanto aiutare questo diciamolo e quindi l'appuntamento con lei anche ovviamente a wellness grazie di essere stato con noi grazie a voi grazie per le informazioni utili grazie molto molto utile molto diretto ha una bella comunicazione quindi noi ci dobbiamo salutare roberta purtroppo sì ci vediamo domani è una minaccia dipende bene molto bene ricordiamo l'appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 13 30 prima edizione seconda edizione 19 30 non mancate perfetto rimanete con noi perché fra pochissimo 16 live si continua a parlare di medicina con il dottor del castiglio con roberto oddo dunque appuntamento domani grazie per averci seguito a prestissimo restate con noi